buona domenica delle palli a tutti vagoni del giocomo questa che voi vedete è la prima di Viti a Patrocola appena uscita appena usciti sono quasi 18 buon pomeriggio a tutti buona domenica a tutti e buone palme a tutti questo vostro carissimo è amato di Decoa eccoci qua che nemici no 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 è entrato nella strada un altro cane come avete pranzato noi benissimo grazie come avete visto stamattina ciao auguri abbiamo firmato la colazione di uova la chiedevo io comunque stamattina stamattina arriva di pranzare abbiamo incontrato abbiamo incontrato la fidanzata di Go abbiamo incontrato la fidanzata di Go aspetto abbiamo incontrato la fidanzata di Go c'è stato detto dalla sua 435 che la fidanzata è stata operata il vicino perché aveva 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 delle infezioni alle porte più ultime e rischiava di morire così è stata così hanno dovuto intervenire l'urgenza e l'hanno salvata l'abbiamo visto perché naturalmente ci siamo avvicinati come si è avvicinato si è avvicinato e niente si sono giusto guardati un po' se voi vedevate il corner di Marito naturalmente vi sto parlando di un Ruffballer qui da lui dopo questa notizia abbiamo fatto tanto siamo trambando però con un obiettivo oggi vi ho fatto una giornata con una serena per un certo senso con qualche pinca ma comunque tutto sommato la un obiettivo è piacevole qua dalle parti nostre si sono viste vicino alle chiese delle vinture le bancarelle che prendevano rovocelle di urivi e e palme di ogni genere buonasera 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 e che vi stavo dicendo e questo è il balletto a quattro zonni ecco qua quindi che facciamo? noi facciamo ciò che fanno loro siamo un po indecisi tutti quanti di cosa fare? camminiamo Atti? ehi Gohan che facciamo oggi me la fai arrabbiare? oggi me la fai arrabbiare Gohan buonasera a tutti buonasera un po di privacy Gohan stava facendo la cacca come avete visto è Gohan si stava intromettendo nel momento più delicato comunque ora si faccia così ecco un altro video guardate che bello guardate quanto è poi ripツirca le pallone e' ma fai Grazie a tutti. Sembra che il tempo si sta rovinando e poi nei prossimi giorni le temperature scelteranno. Comunque devi aspettare un pochino. La tua fidanzata ora è malata deve recuperare anche se ti guarda quella porta e la vedrai in giro non potrai giocare per un po' di tempo perché ha subito l'intervento. E io non potrei recuperare anche le forze. Ecco il balletto di Cova. L'abbiamo visto e come vi dicevo è capa troppo giù. Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Buon proseguimento di giornata e buon pomeriggio a tutti dal vostro carissimo amico Gohan e dal vostro carissimo amico Giacomo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.